La Chiesa di Roma in San Pietro con il suo Vescovo si prepara a vivere il triduo pasquale con la Messa del Crisma di Giovedì Santo durante la quale vengono benedetti gli oli che serviranno per l'amministrazione dei sacramenti nel corso dell'anno. Cardinali, presuli e oltre 2000 sacerdoti della Diocesi di Roma si stringono attorno a Papa Francesco per rinnovare le loro promesse e il sì ad essere missionari che portano il lieto annunzio ai lontani. La gioia intima ed inclusiva, la misericordia incondizionata verso i peccatori, la verità non negoziabile sono le tre grazie inseparabili del Vangelo attorno al quale il Pontefice costruisce la sua omelia. Mai la verità del lieto annunzio potrà essere solo una verità astratta di quelle che non si incarnano pienamente nella vita delle persone perché si sentono più comodi nella lettera stampata dei libri. Mai la misericordia del lieto annunzio potrà essere una falsa commiserazione che lascia il peccatore nella sua miseria perché non gli dà la mano per alzarsi in piede e non lo accompagna a fare un passo avanti nel suo impegno. Ma soprattutto l'annuncio non può essere triste e stanco perché la gioia è l'essenza, la perla del Vangelo. Perciò il sacerdote, questo è l'auspicio di Francesco, deve adoperarsi in una evangelizzazione gioiosa, donare il suo tempo, fare in modo che la misericordia trabocchi nelle terre di nessuno. Infine deve conservare il lieto annunzio in otri nuovi così che non diventi aceto. Il primo è quello di Maria, icona di pienezza e coraggio che supera la tentazione della paura. Il secondo quello di madre Teresa di Calcutta, donna della concretezza che sfama il povero e tocca le ferite dell'uomo. Il terzo è l'otra immenso del cuore trafitto del Signore, quello dell'integrità mite e umile. Non può essere presuntuosa l'evangelizzazione concreta, tenera e umile. Così l'evangelizzazione sarà gioiosa. Non può essere rigida l'integrità della verità, perché la verità si è fatta carne, si è fatta tenerezza, si è fatta bambino, si è fatta uomo, si è fatta peccato, incroce. Vangelo nelle parole e nei gesti, come quelli che portano Francesco nel pomeriggio di questo giovedì santo a chinarsi davanti a 12 carcerati per la lavanda dei piedi nella messa in cena domini, celebrata presso la casa di reclusione di Paliano, in provincia di Frosinone. Tra i detenuti ci sono tre donne, un argentino, un albanese, un musulmano che sarà battezzato a giugno. Due di loro hanno ricevuto la condanna all'ergastolo, gli altri dovrebbero finire di scontare la pena tra il 2019 e il 2073. Abbraccio, il Papa ricorda come Gesù, che era il capo, ha saputo farsi schiavo per noi e amare sino alla morte, poi afferma che servire il fratello vuol dire soprattutto seminare amore, superando difetti e peccati reciproci. vi dirò che se voi potete fare un aiuto, un servizio al tuo compagno qui in carcere, alla tua compagna, fatelo, perché questo è amore, questo è come lavare i piedi e essere servo degli altri. Per questo durante questa cerimonia pensiamo a Dio, a Gesù, non è una cerimonia folclorica, è un gesto per ricordare quello che ha dato Gesù. Dopo di questo ha preso il pane e ci ha dato il suo corpo, ha preso il vino e ci ha dato il suo sangue. E così è l'amore di Dio.